Presidente di Girolamo, dopo le pagine belle regalate dal basket pescarese con la promozione in serie a due dell'amatori, però ci sono anche quelle più tristi come quella di oggi, è una pagina davvero triste, no? Sì, se vogliamo ricordare le pagine belle, forse era meglio non viverle perché poi il dramma è ancora peggio, cioè arrivare a un traguardo e non poterlo poi onorare con le proprie forze, purtroppo si è arrivati a questa soluzione che in fondo è stata obbligata da parte della Comtec e quindi successivamente dal Consiglio federale perché non era assolutamente possibile fare... In particolare l'esclusione dell'amatori dalla serie a due da cosa è di peso? Sono delle situazioni amministrative che si sono verificate nel tempo per cui hanno tolto il diritto alla società dell'amatori Pescara di poter usufruire del diritto di serie a, quindi anche così a scanso di equivoci, anche un'eventuale cessione del diritto da parte di questa società sarebbe stata impossibile, cioè era la società bloccata per cui non era possibile fare alcun movimento anche nel momento in cui la società accortasi, diciamo, magari di questa situazione voleva vendere il titolo, insomma, il diritto sportivo. Paradossalmente col senno di poi naturalmente era meglio non andare in serie a due? Paradossalmente sì, perché... Rimaneva la serie B? Sì, perché diciamo che la movimentazione amministrativa della serie B è senz'altro effettuata su canali più permissivi, diciamo, va, eccola, puntiamola così, per cui invece quella della serie A è chiaramente più approfondita, per cui sono emerse queste situazioni che, da quello che io so e da quello che è emerso dal Consiglio federale, sono insanabili, per cui anche così con un consulto con la società è stato ritenuto opportuno non approfondire, diciamo, con un ricorso che era molto difficile da poter risolvere positivamente. I possibili scenari, perché il Presidente Di Fabio in conferenza stampa ha detto che la wild card eventualmente per partecipare alla serie B è tardissimo, però potrebbe essere una soluzione, non gli interessa. La società potrebbe ripartire dal primo campionato utile, cioè quello di promozione, ma nemmeno qui credo che sia la volontà del Presidente Di Fabio. Ripartirà da quello giovanile, abbiamo capito bene, Presidente Di Gironomo. Le dichiarazioni di Fabio sono state queste, per quanto riguarda noi, con una società di Pescara possiamo arrivare fino al campionato regionale di C-Gold oppure di C-Silver, non possiamo agire per quanto riguarda, diciamo, arbitrariamente a livello di comitato regionale per quanto riguarda la serie B, necessita un intervento da parte dell'istituzione primaria della città che è quella del Sindaco, ma ripeto, siamo già notevolmente in ritardo, ma con questo intervento potremmo eventualmente, se qualcuno vuole farsi davanti, eventualmente proporre qualcosa per cercare di ottenere qualcosa. Una pagina che è triste, abbiamo detto all'inizio dell'intervista, però mai abbandonare la speranza. Pescara, magari tra qualche anno, potrebbe ritornare in qualche campionato importante? Pescara un anno, un po' di anni fa, ha disputato il campionato di C-Silver, poi da lì è riuscito a riportare il titolo sportivo in Serie C, poi in Serie B e quest'anno era arrivata la Serie A, quindi non disperiamo. Pescara è una città che ha anche una forza nel settore giovanile abbastanza solida, per cui può contare sulle proprie forze e sicuramente ritornare a livelli più consoni che sono rispetto a quelli attuali. Grazie a tutti.